Buongiorno, sono Monica Barni, sono la vicepresidente e assessore alla cultura, all'università e alla ricerca della regione toscana. Prima di tutto mi voglio scusare per non essere presente lì con voi, avrei voluto molto ma altri impegni mi impediscono di muovermi. Però vi devo dire che sono estremamente lieta che la regione toscana sia la regione ospite di questo trentesimo salone del libro. È un'occasione di confrontare le buone pratiche, è un'occasione di intestare delle relazioni professionali, è un'occasione di scambio in un contesto appunto culturale che è nazionale ma è anche internazionale. Sul tema della lettura abbiamo lavorato molto in regione toscana, abbiamo lavorato molto con le biblioteche che appunto stanno cambiando, il cui ruolo sta cambiando negli ultimi anni. Sono diventati non solo le piazze del sapere ma sono diventati luogo di incontro, di scambio e di promozione della lettura. La toscana sarà presente al salone del libro con i progetti quindi di promozione della lettura e attraverso le biblioteche e con una pluralità di soggetti della filiera del libro, dal piccolo e medio editore alla biblioteca, alla libreria. Sarà presente appunto con i suoi progetti, con i festival culturali, con la francigena, con la memoria, con l'arte contemporanea, le esperienze di cooperazione interistituzionale e tante altre iniziative di scambio e confronto tra realtà e contesti diversi, extra, regionali ed esteri, per farci conoscere e per conoscere ed elaborare insieme nuove idee e nuovi percorsi. Il tema della diversità è in generale un tema molto caro alla regione toscana ed in particolare all'assessorato che rappresento. Se viene applicato all'immenso mondo dell'editoria, anche dell'editoria toscana, significa dare spazio e dare voce alla varietà delle produzioni culturali in un contesto di mercato sempre più caratterizzato dalla omologazione dei prodotti editoriali, dalla scarsa qualità e dalla bassa durabilità. Allora è importante per le biblioteche scendere in campo sul fronte della bibliodiversità. Questo significa attribuirsi un ruolo eticamente e socialmente militante in difesa della qualità dell'offerta culturale e di salvaguardia di tutte quelle voci che sono fuori dal coro. La libertà di espressione garantisce la pluralità delle idee e la diversità culturale. In un paese in cui ci sono pochissimi lettori e soprattutto in un paese in cui la comprensione dei testi, la capacità di comprendere i testi è tuttora un problema, noi crediamo appunto che sia molto importante continuare a riflettere e continuare a promuovere invece la lettura.